Il malato pronto soccorso di Avellino poteva essere curato diversamente, soprattutto in tempi molto più rapidi. Lo sconcertante quadro urbanistico più che clinico emerge da una richiesta di informazioni presentata dal Tribunale dei diritti del malato sia al Moscati che al Comune di Avellino. I tecnici e funzionari di Piazza del Popolo hanno risposto per iscritto ricostruendo l'iter della mancata realizzazione dei progetti d'ampliamento del punto d'emergenza. Sul caso è bene ricordare pende un ricorso alla giustizia amministrativa. Ebbene il 31 agosto di un anno fa la commissione comunale interpellata dall'ospedale per il rilascio del titolo edilizio aveva espresso parere favorevole, un parere poi confermato a dicembre. In buona sostanza il Comune, ritenendo l'opera realizzata da un altro ente pubblico, ritiene di aver esaurito il suo compito in ragione dell'articolo 7 del DPR 380-2001. Al di là dei tecnicismi, il dirigente Lissa e i responsabili del procedimento De Iorio e Baldanza sostengono che non c'era altro atto da produrre da parte di Piazza del Popolo. A sopporto di questa tesi, nel ricorso del Moscati, il dirigente del Dipartimento Opere Pubbliche del Ministero ha condiviso le argomentazioni del Comune. Non c'era bisogno di altre autorizzazioni ed anche per questo l'istanza cautelare è stata respinta. Se ne deduce che ogni ritardo è imputabile solo ed esclusivamente ad una scelta dell'azienda ospedaliera. Un anno di tempo e più, gettato alle ortiche mentre il pronto soccorso esplodeva dopo la chiusura di Solofra e a fronte della carenza di personale e medicina territoriale. A chi giova tutto questo? Il Tribunale del diritto del malato ha già sollecitato nuove risposte all'interrogativo al Moscati. ... ...